Capitolo conclusivo della diatriba a distanza tra il tecnico del San Benedetto di Marzio e quello del Real Treciminiere dopo un burrascoso fine partita dell'ultima gara del triangolare. Abbiamo sentito a più riprese i due protagonisti, dopo l'intervista di ieri al mister di Genova oggi siamo a sentire il mister di Marzio per l'ultima, speriamo, replica e si spera che tra i due allenatori ci possa essere anche un chiarimento diretto tra non molto. Mister di Marzio. Ma anzitutto mi preme dire che io non avrei voluto rispondere, però mi hanno pregato di farlo per mettere un po' le cose a posto, a me tra virgolette di Genova già mi comincia a essere un po' simpatico perché sì, ma al via di questo. Io mi sembra strano le cose che ha detto Genova nel senso che tu dici che non ti sei mai comportato così, che non sei così, ma io non ho nessun motivo per non crederlo e va benissimo. Allora dopo dici che sai presa la partita vendi i muti dalla fine, stai perdendo e allora. Di quello stiamo parlando, di quello che è successo vendi i muti dalla fine. Non è che parliamo di come sei tu, tu dici che non mi conosci, io altrettanto, ma non è questo il punto. Io vedo come ti sei comportato tu con un giocatore nostro a terra. Dopo tu giustamente mi dici che io ho detto al vostro dirigente del fischetto, ma è quello che ho detto io. Io ho detto questo perché tu vuoi che io faccia un cambio, cioè tu vuoi fare le mie veci, allora fallo tu l'allenatore. Non vedo la polemica, se dopo io ho apostrofato Genova in quel modo è perché ci sono stati dei comportamenti che hanno portato a questo. Dopo dire che probabilmente non dovevi venire dalla panchina, ma è certo, ma infatti di questo stiamo parlando. Io il fratello Luca lo conosco, lui stava tra le due panchine, lui bastava che si affacciasse dalla panchina sua, che si sporgesse dalla sottostazione per salutarlo. Non è che doveva venire vicino sotto la panchina nostra per non vedere il pubblico e fare, voglio dire, abbastanza semplice. Dopo, col sempre di poi si può dire tutto, però domenica c'è stato un solo espulso e è stato espulso lui. Io capisco che in tre anni non sono mai stato espulso, ma io non ho motivo per non crederlo. Io voglio essere quello che deve dare i giudizi, io devo pensare alla mia squadra, però lui domenica è stato espulso, sarà un motivo. Altrimenti vogliamo con le spiegazioni, con le parole vogliamo cambiare i fatti, ma i fatti restano fatti, le opinioni, ovviamente ognuno ha la propria opinione, però i fatti sono stati quelli. Io quando mi rifisco ai tifosi, ho fatto i commenti ai tifosi, ho fatto i commenti ai tifosi, ho fatto i commenti alla squadra del San Mernetti dei Marsi, perché San Mernetti dei Marsi, tengo a precisare, non ha rubato nulla, così la prestazione dell'albito e della giornata arbitrale è stata esemplare. Noi siamo contenti di questo, perché quando tu non hai nulla da recriminare e perdi, è già un vantaggio, perché noi l'anno scorso abbiamo perso la Coppa con tanti episodi a sfavore e ci hanno reso la vita difficile, perché tu vedi che hai subito qualcosa che invece domenica il rigore ci stava, noi avevamo un problema con il portiere e finita l'anno. Però adesso volessi fare il moralizzatore mascherato da parte di Genova mi sembra un po' così. Io quello che ho detto l'ho detto perché mi riferivo a certi comportamenti, ma da parte sua non è che sono stati, come dire, non è stato riconosciuto certi comportamenti, quindi a quello mi riferivo. Allo stesso tempo io sono vicino al San Mernetti dei Marsi, mi auguro che insieme a Raiano possano dar vita a una degna finale, faccio i migliori in bocca al lupo a tutte e due e che possano festeggiare così anche per l'amico Antinucci, così a questo punto anche per di Genova che io mi diventa simbatico sempre di più. Voglio dire, quindi che pensasse lui a questo punto ad allenare la sua squadra, a cercare di prendere un titolo che è importante. Noi intanto il nostro titolo l'abbiamo preso, festeggeremo pure noi e dopo quando lui dice che un mio giocatore, un dirigente, sono andato a fare i complimenti, bene, va benissimo, questo avvalora il fatto che noi siamo venuti in pace a San Mernetti e abbiamo trovato un ambiente di pace. Lui sicuramente non è stato tra quelli che ha… dopo tu dici ma io non sono così, ho capito, però avvenuto dalla fine e in quelle particolari situazioni ti sei comportato così, così come i complimenti da parte del Presidente del San Mernetti dei Marsi, di complimenti da parte del Sindaco. Noi li abbiamo… sono venuti da me, io li ho accettati, mi ha fatto piacere molto, probabilmente io col senno di poi adesso dovrei fare… però niente, io quello che ho detto in quel momento è quello che pensavo e ovviamente, certo, io capisco che lui, però lui deve capire che a fronte di comportamenti che uno tiene, dall'altra parte vede quei comportamenti. Io sono sicuro che di genere sarà un ragazzo esemplare, padre generoso e lavoratore instancabile, ma la realtà è che domenica con il nostro giocatore a terra lui ha messo in atto una serie di comportamenti che a mio avviso non sono andati bene. Colgo comunque l'occasione per salutare tutti quanti, per fare i complimenti anche al Piazzano e all'Orsogno che fino al 12 di giugno sono stati insieme a noi con questo caldoforato, mi auguro che ci si possa ritrovare in qualche categoria migliore e basta, finito così. Non penso che… dopo sai, uno sulle opinioni si può sempre discutere, e anzi, è stupido chi non cambia mai le proprie opinioni, perché c'è sempre un motivo, un modo… poi un'altra cosa, io penso di non essere più anziano di di giugno, probabilmente sarò più grande, ma più anziano, passami il termine, non mi ci sento. Meno giovane dai! Meno giovane, un po' più grande, vecchio, anziano è mia nonna, signor Tamburini, là, un vecchietto vicino a casa nostra, ma insomma, penso di essere una persona adulta, matura… Potete essere giovane, mettiamola così! Sì, sì, anche perché come dice una nota canzone, ci vuole del talento per invecchiare senza diventare adulti, quindi, insomma, cerchiamo di vivere la pena la vita. Un abbraccio a tutti! Ciao mister, ciao!